Se ad autunno la produzione industriale ricomincerà a tirare il fiato, il settore primario, l'agricoltura, rischia seriamente di soffocare. Il peso di mercati sempre più depressi e di una stagione meteorologicamente un po' pazza hanno abbassato talmente tanto i prezzi, per esempio dei cereali, che per portarsi a casa 100 kg di pannocchie bastano oggi 12 euro. Quotazioni tali che causeranno sfilze di bilanci rosso nelle piccole e piccolissime imprese agricole del nord-est, a serio rischio chiusura, così come denuncia Confagricoltura. L'allarme è che i prezzi dei prodotti agricoli stanno precipitando. Purtroppo quasi tutto ha raggiunto dei livelli bassi come credo non erano mai stati negli ultimi dieci anni. Ma i cereali non sono che un piccolo esempio delle dimensioni della depressione. I prezzi rimangono bassissimi anche per l'uva, tanto da rendere conveniente l'espianto dei vigneti più che la coltivazione. Per non parlare del latte, che da mesi viene pagato al produttore non più di 30 centesimi al litro, a fronte di ben più pesanti prezzi alla stalla. Ma se per i mercati alimentari mondiali, soggetti a speculazioni di vario genere, nulla si può fare a livello locale, una minor burocratizzazione per accedere ai finanziamenti e progetti riservati al settore in ambito locale sarebbe invece auspicabile. Un passo in avanti sarà l'anticipo per la prima volta dei pagamenti a VEPA a metà ottobre, ma basterà per scongiurare l'annata nera per l'agricoltura? Dove noi possiamo cercare di fare è nella qualità, nelle varietà più richieste, mettendosi assieme nella commercializzazione, cercando tutte quelle cose che possono in qualche misura tenere un po' più sul prezzo. C'è la cooperativa di Arzel Grande che fa raccolta di cereali, c'è quella di Kona che fa raccolta di cereali, ce ne sono un'altra nel Trevigiano, un'altra nel Veneziano, c'è il Consorzio Agrario, sono tutte realtà importanti. Certo, l'Unione fa la forza. Noi stiamo cercando di spingere per queste realtà, stiamo cercando proprio, le sosteniamo e anche vorremmo che anche in altri settori nascessero delle strutture verosimilmente cooperative, tali da mettere insieme la produzione e commercializzare meglio, perché il nostro problema è la commercializzazione.